Ciao, sono Domenica, host della sala operatoria di Carpi, sono una candidata della CGL e mi candido perché credo che il sindacato debba entrare nei luoghi di lavoro a portare la propria voce, perché ci sono tante cose che un lavoratore deve sapere ed è giusto che vengano dette. Ciao, ci siamo, il 17, 18, 19 aprile si vota, scegli la FP CGL per tutti, tutti i giorni. Non gli date retta, votate Carcarlo Pravettoni!